Presentati oggi in regione da parte dell'assessore all'agricoltura Salvatore Micone e dal presidente della regione Francesco Roberti, i bandi regionali legati al complemento di sviluppo rurale 2023-2027. Si tratta complessivamente di 5 bandi per un importo totale di 8 milioni di euro, forti gli incentivi per i giovani imprenditori, gli investimenti sul fronte della competitività e della trasformazione dei prodotti. Oggi si può dire che parte ufficialmente il CSR 23-27, quindi metteremo in campo tutti gli sforzi necessari per sostenere il settore agricolo. Oltre alle misure di sostegno, che ricordiamo quelle del Molise rappresentano la percentuale più alta d'Italia, quindi il 55% del programma, oggi iniziamo con le misure ad investimento. Sono 5 bandi, in realtà 6 perché uno è un combinato, quello che riguarda il pacchetto giovani, il pacchetto giovani quindi il primo insediamento per una dotazione di 8 milioni di euro. Poi abbiamo il bando per la competitività, un bando di 5 milioni di euro e un bando di trasformazione di 3 milioni di euro. Oltre a quelli di consulenza e formazione, dedicato ovviamente alle associazioni, a tutti gli enti che hanno i requisiti, un ulteriore milione di euro per preparare il territorio, quindi le aziende alla partecipazione a questi bandi, ma soprattutto affrontare quello che è l'intero programma. Quindi tutto questo per aumentare il reddito, la redditività delle nostre aziende, soprattutto per sostenere il cambio generazionale e quindi per dare forza al nostro settore ed essere competitivi al pari delle altre regioni. L'agricoltura è uno dei pilastri del prodotto interno lordo molisano, un comparto sul quale la regione punta ad una forte crescita. Saranno dei bandi regionali che terranno conto anche delle future generazioni, quindi si va verso i giovani che non è più quel sistema di agricoltura di prima. Oggi i giovani sono ben informati, hanno competenze, ma soprattutto c'è un approccio differente verso il sistema agricolo e quindi queste risorse possono essere propulsive per un settore che è gran parte del pil di questa regione. Gli interventi previsti prevedono sia finanziamenti forfettari, sia una compartecipazione alle spese con una percentuale massima che può arrivare in conto capitale sino al 100%, come nel caso della formazione.